Oh, fanciulle e fanciulli, buonasera, 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 come state? Allora, in diretta per voi, se ci siete qua con me in diretta stasera, mi scrivete uno per favore, sotto, voglio vedere quanti si collegano, quanti poi vi vengo a salutare. Se vedete il video registrato, mi scrivete due, come sempre, il nostro rituale, ok? Allora, ragazze e ragazzi, io voglio veramente incominciare a fare un po', mi hanno chiesto anche di fare un po' il punto della situazione su che cosa sia veramente la manifestazione, cosa vuol dire manifestare, cosa vuol dire che ci sono infinite possibilità, queste cose. Voglio tornare un po' alle basi, perché qui vedo un po' di confusione, poi qualcuno mi segue da più tempo, qualcuno mi segue da meno tempo. E, ultimamente, mi viene detto spesso, dai, quando magari vedo persone che interagiscono sotto i miei video, si parla tanto di queste teorie catastrofiche, apocalittiche, riguardanti il genere umano, riguardanti la Terra. Teorie che non trovi, magari, sul mainstream, che ne ha altre di teorie, perché molti dei miei, delle persone che mi seguono hanno abbandonato, no? La televisione, o la vedono sporadicamente, insomma. Per, magari, invece, focalizzarsi di più su fonti diverse, internet, YouTube, cose di questo genere. Però, ragazzi, anche la rete è piena, è piena di questi titoli apocalittici, o queste teorie tremende della serie. Cioè, ci sono i pochi che governano tanti, ci sono, c'è questo, possono anche vere, per carità. Ci sono, eh, sai, qui, oramai, vengono gli alieni fra tre anni, è un macello, perché vengono quelli cattivi, no? Poi c'è quello che dice che no, 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 sono quelli buoni. Cioè, è una masnada, è un calderone di roba, di cose. Io vedo tanta gente che sta male, che viene da me in consulenza, in chiamata, che sta male. Perché mi dicono, perché hanno aderito a delle credenze, a delle teorie. Ti dici, no, Francesca, no, 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 è oggettivo. Ho fatto le mie ricerche, la so, la so, non posso, non posso cadere nel tranello. Cioè, io la vedo, la realtà, io mi sono risvegliata alla realtà. Eh, ci sono delle cose, dei potenti che vogliono la nostra distruzione. Benissimo, è così, benissimo. Posso anche darti ragione su questo punto. Fantastico, diamoci ragione. Ma la cosa che ci sfugge qua è che ci sono due cose che non possono andare insieme. O tu veramente credi che sei il co-creatore della tua realtà e allora mi segui da un po' per quel motivo lì, perché io di questo parlo. Oppure credi che sei la vittima degli eventi. Perché se stai nel mezzo, sei un po' un babbano, come direbbe Harry Potter. Cioè, credi nella legge dell'attrazione, nella manifestazione un po' così, quando ti fa comodo. Però ci sono forze più grandi di te che hanno il potere di o schiacciarti o salvarti. Capite che le cose insieme non possono andare. Cioè, o sei un mago, o sei una vittima. O sei un mago, o sei una vittima. Poi io continuo a vedere, a sentire persone che parlano di risvegliati. Noi siamo risvegliati perché stiamo con Putin, oppure no. Noi stiamo risvegliati perché stiamo con Zelensky. Noi siamo risvegliati perché non abbiamo fatto il vaccino. Noi siamo risvegliati perché il vaccino l'abbiamo fatto. Noi siamo risvegliati perché diamo ragione a Israele. Noi siamo risvegliati perché invece lo vediamo che succede a Gaza. Noi siamo risvegliati perché sappiamo che ci devono venire a salvare gli alieni. Noi siamo risvegliati perché sappiamo che non c'è alieno buono che tenga, che ci distruggeranno tutti. Noi siamo risvegliati perché sappiamo quando il mondo finirà. Noi siamo risvegliati perché il nostro Dio ci ha detto che tra poco è il tempo dell'Apocalisse. Ma questo non è il risveglio. Ma che risveglio è? Ma questo è aderire a una credenza piuttosto che un'altra. La gente mi accusa spesso di non prendere posizione quando si parla di temi di geopolitica. Ma ragazzi, ma io prima di tutto non me ne intendo. Io sono una banalissima persona di 46 anni che si occupa di spiritualità. Non parlo di quei temi perché per me sarebbe parlare di teorie. Teorie? Eh no, però teorie. Ma te, se studi, sai che cosa è giusto e che cosa è sbagliato? No, non lo so. E non lo sai nemmeno te. E non lo sai nemmeno te. No, come non lo so Francesca? Eh, ho tutte le prove, ho letto tutto, ho visto tutti i video possibili, ho letto tutti i libri possibili, me l'hanno raccontata così. Ma te ci sei lì nel luogo dove ti cadono le bombe in testa? Te ci sei lì? Te sei fra le commissioni di scienziati che studiano un farmaco piuttosto che una... No, tutti, tutti sanno tutto. Tutti hanno capito tutto. Io non ho capito proprio nulla. Io non so nulla. Io so solo che se non faccio esperienza di una cosa, non mi sento di parlarne. Allora, l'essere risvegliati non è aderire a una cavolo di teoria o un'altra teoria, perché le teorie, le narrazioni che abbiamo, non sono qualcosa che serve per descrivere la realtà in cui viviamo. le narrazioni, le teorie, la portano in essere la realtà. Allora tu il potere ce l'hai di cambiare il tuo mondo, non il mondo, il tuo mondo. Ma come? Non facciamo parte tutti dello stesso mondo? No! No! Non facciamo parte tutti dello stesso mondo, perché le stesse cose a te ti influenzano, a me no, e viceversa. Alcune cose influenzano a me e a te no. Se tu decidi di credere che l'esito, che il destino dell'umanità sarà di essere schiacciata da un manipolo di criminali che sta sotto mentite spoglie in un governo ombra, fatto di illuminati e che siamo condannati a quella fine, è questo il tuo mondo. E c'hai ragione! Ma c'hai assolutamente ragione! Ma certo che c'hai ragione! Perché esistono infiniti mondi, esistono infiniti mondi, in ogni secondo, anzi in ogni frammento di secondo, tu cambi, hai la possibilità di cambiare mondo, non di cambiare il mondo, di cambiare il tuo di mondo. Ma noi continuiamo a rimanere attaccati alle nostre teorie, alle nostre certezze, a perpetrare certe narrazioni e certi mondi. Ah, ma tu mi stai dicendo, Francesca, che c'è qualcuno qui che non è affetto dagli stessi problemi di cui sono affetto io, o dalle stesse realtà. Sì, ti sto dicendo questo, ti sto dicendo esattamente questo, ognuno vive nel suo mondo che è fatto delle sue credenze, delle sue narrazioni, di come decidi di narrarselo. E se sei qui e mi segui, e credi nel potere della manifestazione, perché se no me lo spiego, 40.000 followers su questo profilo, cosa diavolo, come diavolo fai a conciliare queste due realtà? Del, siamo vittime di qualcuno, di qualcosa, e siamo i creatori della nostra realtà. Non è possibile. Ma purtroppo, questa contraddizione, io la vedo ovunque, sui social, YouTube, anche questi personaggi, alcuni famosi, alcuni che vengono da storie di rock, addirittura ora fanno, fanno i motivatori spirituali, fanno quelli che hanno capito dove sta la verità, che conoscono come funziona la legge, come funzionano le leggi universali, che conoscono il fatto che siamo dei maghi, dei creatori della realtà, eppure cadono vittime di queste teorie, dell'ineluttabilità di questo destino terribile. dice, ma allora scusa, ci fai o ci sei? Ci fai o ci sei? Forse ci fai. Forse ci fai. E ti dico io perché? Perché così come i TG hanno bisogno di notizie drammatiche, tragiche, per catturare la tua attenzione, e quindi richiamare sponsor, che paghino pubblicità, spazi pubblicitari all'interno del loro TG. Perché questo è il meccanismo umano, noi siamo attratti, quando c'è paura, quando c'è qualcosa di tremendo, noi subito hanno la nostra attenzione, e lo sponsor paga. Sono soldi, eh ragazzi? Allo stesso modo, su internet, questi titoli tremendi, cosa non ti dice il mainstream? Cosa invece ti dico io, che succederà da quattro anni all'umanità? Cosa sta facendo il governo ombra, che tu non sai? Cosa non ti... Anche questo ragazzi attira la vostra attenzione, eh? E le visualizzazioni salgono, e le piattaforme pagano. Ah, non lo sapevi? È così, eh? I titoli clickbait, fatti per farti cliccare, perché così sale la visualizzazione, e così cosa fanno? Le pubblicità pagano, lo youtuber di turno, che poi magari ha il suo libro da vendere, legittimo, ma è una tecnica di marketing, ragazzi, svegliamoci, ecco questo, qui c'è da svegliarsi. Allora però, cosa vuol dire svegliarsi veramente? Non è aderire a una teoria piuttosto che un'altra, rimanendo vittime, perché sei sempre vittima così, c'è sempre qualcosa fuori che decide per te, il copione che devi vivere. Svegliarsi vuol dire riconoscere che la realtà, quella cosiddetta realtà che tu pensi, solida, granitica, oggettiva, materiale, in realtà è tutto fuorché oggettiva, materiale, la realtà è un sogno, è come sognare. Il sogno non è né oggettivo né materiale, è reale, è un sogno però, e oltretutto il sogno non prescindono, le immagini del sogno non prescindono dal sognatore. Se quando sei a dormire ti sogni un assassino che viene lì col coltello a ammazzarti, non è che quell'assassino esiste di per sé a prescindere da te, quella è una proiezione. Allora qualcuno, qua fra i più babbanini, dei miei amici di vecchia data, che sono su tutt'altri mondi, diranno, no Francesca, un conto è sognarselo, l'assassino è un conto quando ti viene lì col coltello e ti penetra la carne, è certo, è certo, perché tu la carne la vedi come materia, tu la carne la vedi come una roba solida, se questa benedetta carne o questo benedetto tavolino di marmo tu li ingrandisci, tu non vedi altro che tanti piccolissimi puntini di luce distanti chilometri l'uno dall'altro, c'è più spazio vuoto nella materia rispetto alla materia stessa e anche quella materia lì, quella roba lì che noi percepiamo come materia, in realtà energia, e oltretutto energia pulsante, cioè ora c'è, ora non c'è, ora c'è, ora non c'è, ora è visibile, ora è invisibile, e dove va? e oltretutto questo magma energetico di energia pulsante risponde alle intenzioni di chi l'osserva? non ci credi? allora, se sei una mente razionale, non ti basta né farne esperimenti, perché non arriverai mai a fare un esperimento del genere, per vedere effettivamente se questa teoria è reale, non ti andrai neanche a leggere un testo antico buddista e non ti basterà leggerti cosa dicevano 3000 anni fa i buddisti, ma magari leggiti qualche cosa sulla fisica quantistica, l'esperimento della doppia fenditura, allora questo, quello può nutrire la tua mente razionale, allora hai bisogno di quello, benissimo, vai, passa dal cammino, da quel cammino lì, da quella strada lì, dalla razionalità, per poi magari arrivare a farne esperienza, l'esperimento della doppia fenditura veramente dimostra scientificamente che l'osservatore influenza la materia, che la materia non esiste così com'è se non c'è qualcuno che la osserva, ah mi fa bene la pelle d'oca sta roba qua, nonostante sia una roba che poi ho messo in pratica, perché tu di esperimenti di manifestazione dove veramente dici no, crei miracoli, manipoli la realtà, li puoi fare, ne avrai fatti, se mi segui ne avrai fatti a montagne, nella mia vita ne ho fatti a bizzeffe, roba che se appunto vai dai babbani ti vogliono fare il TSO, ma lasciamoglielo fare, lasciamoli rimanere lì nelle vittime, nel loro stato da vittima. Allora, se sei consapevole di questo, ti rendi anche conto che veramente la realtà è uno stato di sogno e gli sciamani come mantra hanno questo, ogni volta che camminano, ogni volta che si trovano di fronte a un evento magari anche perturbato, dicono sto sognando, sto sognando, sto sognando, sto sognando, è questo che li mantiene svegli, è questo che vuol dire essere sveglio e non addormentato, boom, così. quando è che siamo addormentati? Quando è che l'essere umano è addormentato? Non è risvegliato? Quando continuamente è focalizzato su questi due poli? O lo schermo esterno, uno schermo esterno di realtà, cioè ciò che accade fuori, o sullo schermo interno, quindi a rimuginare su cose del presente e del passato, anticipazioni del futuro, quando sei dentro i tuoi pensieri, no? E non ti accorgi più di quello che succede fuori. Allora, sia in questo stato qua, questo schermo qua, sia in quello, lo schermo esterno, tu dormi, dormi da sveglio, sei un morto che cammina, uno zombie. Cioè, ma tutti sono così francesi? Eh sì, eh sì, sono tutti, la maggior parte. La maggior parte. quando è che ti svegli? Quando ritorni al centro, riporti l'attenzione via dallo schermo esterno, scusate, sia nello schermo esterno che nello schermo interno, sei al centro, sai cosa accade fuori e sai cosa accade dentro. Eh, ma come si fa? È difficile, è difficile, perché non sei abituato a farlo, perché sempre ci è stato insegnato o a entrare dentro di noi o a star fuori di noi. La condizione a metà nel centro è particolare. Qualcuno parla di momento presente, ma anche questo non mi soddisfa, perché essere nel momento presente spesso vuol dire fare focus semplicemente sull'azione che stai facendo, essere più produttivo, quindi fai il cappuccino meglio quando sei al bar e lo dai ai clienti, ne fai di più, o sei più produttivo col CEO della tua azienda, perché sei nel momento presente, quindi produci, 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 non è quel tipo di momento presente, è una consapevolezza espansa, è il comprendere che la realtà è sogno, è lo stare fuori e lo stare dentro, e quindi lo stare al centro. È una condizione che si perde e si recupera, 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 e diventiamo sempre più bravi. Francesca è difficile, è difficile, certo che è difficile, a me questa, questa obiezione, però non mi basta, non basta raccontarsi che è difficile anche, però, perché tutto lo è, lo è stato, è stato difficile camminare, è stato difficile parlare italiano, è stato difficile imparare un'altra lingua, tutto è difficile all'inizio, ma perché non siamo abituati a farlo, poi tutto ciò che è stato difficile diventa facile, ma bisogna farlo, ma è l'unica cosa che bisogna fare, uscire dall'illusione, e riacquisire la consapevolezza, costante, sempre di più, che questa realtà è sogno, e che tu puoi cambiare il tuo mondo, non possiamo cambiare il mondo, puoi cambiare il tuo mondo, allora, esistono infiniti mondi, non è vero che facciamo tutti parte dello stesso mondo, come ci sembra, ci sono infiniti piani paralleli di realtà, e noi shiftiamo da un piano all'altro, costantemente, ogni nanosecondo, ogni nanosecondo, con i nostri pensieri, le nostre emozioni, noi ci spostiamo, da un livello di energia, da un livello di energia all'altro, da un mondo all'altro, allora è possibile, che nel mio mondo, io non venga, sopraffatta dalle stesse cose, che hanno un effetto su di te, che ti schiacciano a te, e viceversa, eppure ci sembra di far parte tutti, dello stesso mondo, eh no, è un'illusione, è l'illusione di Maya, tu in ogni secondo, puoi cambiare realtà, se mantieni l'attenzione, se mantieni il focus, come ti ho detto, tra questi due schermi, lo schermo interno, e lo schermo esterno, e ritorni al centro, più lo fai, più la smetti, di vivere di default, di manifestare, che cosa, un copione, scritto da qualcuno per te, da chi, dal tuo passato magari, dai traumi del passato, o come si direbbe in sciamanesimo, dagli eventi perturbati del passato, e allora incominci a vivere il tuo copione, le tue narrazioni, consapevolmente, sapersi spostare, senza perdersi, è il mio obiettivo, ah questo è ottimo, perché poi anche lì, ci sono, questa potrebbe essere, argomento di un video, voglio approfondirla questa cosa, assolutamente, grazie Anna, sì, voglio proprio approfondirla, perché poi anche lì si uscilla, si uscilla costantemente, fra due poli, quindi bisogna sapere, quando dar voce, come accogliere, un certo stato d'animo, un polo, e come accogliere poi, come ritornare poi, sulla manifestazione consapevole, grazie Veronica, questo è complesso, chiaramente, bisogna che ci ritorni, però capite bene, che veramente dobbiamo, dobbiamo piantarla, piantarla, di pensare, che siamo le vittime designate, che c'è qualcuno, perché sì, che ci sono, esseri malevoli, malvagi, che vogliono fare del male all'umanità, io non sto negando questo, ma come ce li abbiamo messi, ce li abbiamo messi noi, ce li possiamo levare, come? Intervenendo sul nostro mondo, sulle nostre narrazioni, basta dare energia, a quelle narrazioni catastrofiche, apocalittiche, drammatiche, perché è così, che tu subirai, il risultato del tuo narrarti, la vita in quel modo, non c'è niente, di oggettivo fuori, là fuori, non c'è nulla, allora, le cose sono due, o ci credi, o non ci credi, non è che poi sta nel mezzo, ma sì, manifesto la realtà desiderata, a tutti i papapà, e poi ci sono quelli cattivi, che ci schiacceranno tu, quello non è vero, vera consapevolezza, quello è stare coi piedi in due staffe, no, o sei di qui, o sei di là, o decidi che quello che dico, è tutta una cavolata, e ci sta, ti prego, sei liberissimo di credere, allora però, cavoli, sii coerente con te stesso, se sei vittima, lo sai fino in fondo, eh, allora, sì, basta, non sono il creatore della mia realtà, non creo proprio nulla, benissimo, vittima, fam, oppure, se no, diventi il mago, quello che sei, ritorni, ti ricordi che sei un mago, ma in entrambi i casi, prendi una decisione però, non puoi stare nel mezzo, e io non posso immaginare, come possano fare, questi divulgatori, su YouTube, ma pieno, che parlano di catastrofismo, non voglio usare altre parole, se no, mi arriva una shit storm, come si dice qua, terrificante, e non voglio nemmeno fare i nomi, che parlano di cambiamento, di cocreazione della realtà, e poi si fregano, si perdono un bicchier d'acqua, e danno retta a queste narrazioni terribili, hai ragione, succede, certo che succede, se continui a narrartelo, se continui a dare energia, certo che la tua realtà, si sposta, a creare quel tipo di mondo, in cui tu, ne subirai le conseguenze, eh ma ci sei anche te dentro Francesca, no caro, no, no, se avremo occasione, te ne parlerò, fuori da questo contesto, fuori da questo contesto, perché sono cose molto personali, però quando tu decidi di non aderire a certe narrazioni, fai miracoli, non c'è nessuno che può toglierti il lavoro, non c'è nessuno che può impedirti di fare un viaggio, non c'è nessuno che può impedirti di compiere una scelta, sei tu che decidi, come? All'universo, le vie del Signore sono infinite, come direbbe qualcuno, non lo aspetta a me sapere come, ma succede, succede costantemente, allora cosa vuoi fare? Vuoi rimanere uno sfigato, e dare retta alle teorie, e tirarti delle gran zappate sui piedi, o vuoi diventare il mago, e buttarla in tasca al tutto, e fare il diavolo che ti pare? Eh? Allora questo, secondo me, è essere risvegliati, essere consapevoli, punto, tutto il resto, non è che sei risvegliato, perché aderisci a una teoria o un'altra, come ho detto all'inizio, quelle sono teorie, rimangono teorie, oh, sono contenta Gabriele, veramente, veramente, sei una maga, Emanuela, lo so, lo so, se siete qua, 34 persone ora, siete maghi, poi vi leggo, poi vi vengo a leggere, ora, chiudo, perché devo andare, a cenare, siamo qua, siamo in un'ora prima di voi, a Londra, siamo, sono le 8 e 14, ho una cena, giù, con persone che mi aspettano, bene, bene ragazze e ragazzi, scrivetemi tutte le cose che, che vi vengono in mente, poi vi vengo a leggere, e ci vediamo alla prossima, forza eh, maghi, tutti maghi, questo siamo, daie, ciao, grazie, grazie Mimi, grazie a tutti,